Buongiorno, allora apriamo questa tavola rotonda sul Covid-19, quale esperienza? E do la parola al dottor Andrea Borini, organizzazione del centro di PMA in era Covid-19. Mi raccomando mantenere i tempi. Grazie mille, grazie Raffaella, grazie Alberto. Perfetto, buongiorno a tutti, allora non potevamo dopo il tempo che abbiamo passato non parlare anche noi un pochettino di Covid, so che ne abbiamo tutti sopra i capelli perché i webinar che ci sono stati sono stati tanti, però volevamo provare a cercare di mettere alcuni punti fermi, infatti la sessione affronta diverse problematiche. Allora, intanto coronavirus e PMA, come si organizza un centro e che cosa ci dicono le linee guida, un pochettino i test diagnostici, servono o non servono, hanno senso, ci aiutano o non ci aiutano, e poi le raccomandazioni che le varie società scientifiche hanno dato. Sappiamo tutti che a marzo è esploso il problema e che a marzo, dal mio punto di vista questionabile, però il mio punto di vista conta poco, un po' tutte le società scientifiche e le agenzie governative hanno in qualche modo chiesto ai centri di fecondazione assistita di chiudere le loro attività. Quindi il sottotitolo a queste raccomandazioni di chiusura dei centri di fecondazione assistita, salvo per problematiche oncologiche, ma sappiamo che restano comunque pochissime nel mondo, danno un grading di importanza nel fare figli con fecondazione assistita più basso di quello che è un qualsiasi altro intervento che sono stati fatti negli ospedali e nelle strutture pubbliche. Queste sono le varie date in cui le varie società scientifiche, ASHRAE, SRAM, hanno fatto i loro statement. Questo è un pochettino il timeline di quello che è successo, quindi vedete che a marzo è iniziato tutto e subito dopo sono state espresse queste opinioni. Questo è, sembra quasi impressionante, ma vedete come il tutto è iniziato e come eravamo chiusi e quanto era pandemia considerata in ogni nazione in questo periodo, fino ad arrivare al 15 maggio in cui in qualche modo i casi hanno iniziato a diminuire e quindi sono stati riaperti i centri di fecondazione assistita. Perché fare sorveglianza in PMA? Qui ci sono alcuni punti, non li affronto io, ma li affronteranno poi i relatori che verranno dopo. Cosa sappiamo riguardo l'infezione delle cellule dei tessuti dell'apparato riproduttivo? Il SARS-CoV-2 può attaccare ed entrare nelle cellule, perché questo è un altro punto importante. Esiste una trasmissione verticale, quindi mamma-bambino, e le donne in gravidanza sono a maggior rischio di infezione, morbidità. Direi che se riusciamo a rispondere a tutte queste domande, possiamo in qualche modo avere una clinica di fecondazione assistita libera dal coronavirus. Anche nel nostro paese il Centro Nazionale di Trapianti e il Registro PMA, sotto ovviamente il Ministero della Salute, hanno in qualche modo chiesto e suggerito a tutti i centri di fecondazione assistita di chiudere l'attività, eccetto che nei casi di finire, se c'erano pazienti che erano in stimolazione, e di lasciare aperte solamente le possibilità di fare congelamento di ovociti nelle donne e di semi, ovviamente, nelle donne che devono sottoporsi a un trattamento di chemio o di radioterapia. Quello che è stato chiesto era di riorganizzare gli spazi di accoglienza delle attività, questo in tutte le strutture ospedaliere d'Italia, di fare un corretto uso dei DPI e di valutare la sospensione del trattamento in caso di infezione confermata o sospetta. A questo punto, in Ansigo, quindi nella società italiana di ginecologia e ostetricia, si è deciso di, tramite il GIS, che è il gruppo di interesse speciale appunto sulla sterilità, si è deciso di provare a dare suggerimenti, cioè siamo in una fase, ve lo ricordate bene, dove quasi non si sopiva niente, solamente c'era una grande paura dell'infezione, quindi il virus faceva veramente paura. Quindi il primo punto che il gruppo di interesse speciale aveva messo in evidenza era quello di, per non chiudere qualsiasi attività, di utilizzare la telemedicina, ovviamente telemedicina, che erano soprattutto l'utilizzo del teleconsulto, di fare refertazioni sempre per via telematica e di provare a dare assistenza alle persone che semmai nei 15 giorni prima, nei 20 giorni prima, nel mese prima avevano fatto un trattamento di fecondazione assistita e quindi comunque erano gravide, comunque dovevano andare avanti. Ovviamente per fare questo ricordiamoci sempre che c'è un problema, ma in Italia esiste una legge sul trattamento dei dati e quindi cercare di utilizzare piattaforme certificate e non banalmente utilizzare WhatsApp, che non è, ve lo ricordo, certificato. Queste erano le regole che sono state scritte dal GIS. Prendere appuntamenti dei pazienti, quindi evitare il sovraffollamento nelle sale d'attesa, all'arrivo dei pazienti, disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica, quello che continuiamo a fare anche oggi, è probabilmente l'azione più efficace che possiamo fare, lavarsi i mani e disinfettarsi le mani rispetto all'infezione tra persone. E consegna di guanti e mascherine da parte del personale di accettazione per le persone che entrano. Gli accompagnatori, è fatto di vieto di permanere nelle sale d'attesa, quindi fortunatamente stava arrivando la bella stagione, tutti gli ospedali e tutti i centri, anche privati, avevano una serie di persone fuori che aspettavano e queste erano soprattutto di sesso maschile. Al partner è consentito la presenza come indicazione dello staff medico, quindi ovviamente nel momento in cui doveva produrre il campione seminale. La sala d'attesa l'ha allestita per mantenere l'opportunità di distanza di sicurezza, questo mi sembra da tutto normale, e chiedere appunto se i pazienti avessero avuto sintomi di comunicarlo al personale medico. Il personale di accettazione, questo ovviamente era difesa degli operatori, quindi posizione di lavoro schermato, il personale del centro deve indossare i DPI che rispetto le linee guida in atto, quindi le mascherine di uno o due a seconda delle varie situazioni. La permanenza all'interno della struttura va ridotta al minimo e questo lo sappiamo. Che cosa può essere fatto per prevedere qualcosa? Perché se noi non vogliamo stare fermi dobbiamo provare a cercare di prevedere se quel paziente ha o non ha possibilità di avere il coronavirus. Quello che era stato proposto era di fare tre schede ad amnestica di triage, quindi un triage duraturo nel tempo, quindi un primo triage al momento della fase luteale precedente, quindi prima di iniziare qualsiasi tipo di stimolazione, e successivamente nel momento in cui la paziente è maestro prima di iniziare la stimolazione e poi nel momento in cui deve fare l'HCG. È evidente che noi, a differenza di chi si occupa di intervento al ginocchio, prende il ginocchio per farvi capire, che nel caso in cui risulti positivo la mattina o il giorno prima del ricovero può essere rimandato di 15 giorni, 20 giorni o se guarisce, quando guarirà, noi qui in realtà trattiamo pazienti che hanno fatto una stimolazione ormonale, quindi abbiamo un problema in più, fare iniziare una paziente che per 15 giorni fa una stimolazione ormonale. L'obiettivo del triage quindi è valutare l'esposizione al virus, quindi non solo se il paziente è ammalato, ma una condizione clinica preliminare, intercettare l'insurgenza di sintomatologia e o di fattori di rischio. Quando dovrebbe essere fatto? Qui l'abbiamo scritto, se dobbiamo fare una stimolazione che deve prelevare gli ovociti nella fase luteale del ciclo precedente, all'inizio le gonotropine il secondo e il giorno del triage nell'ovulazione il terzo. Se parliamo invece di scongelamento di embrioni e ovociti, anche in questo caso nella fase luteale del ciclo precedente, all'inizio del progesterone, iniziare in qualche modo gli estrogeni non è, si possono interrompere l'astrologia, quindi non è come fare una stimolazione ormonare, e un terzo nel momento in cui si comunica l'orario del transfer, quindi il giorno prima del transfer. Come può essere fatto il triage? Telefonicamente o per email, quindi consegnando le schede che il paziente certifica sottoscrivendole. La scheda di triage va costantemente aggiornata in base alle informazioni a disposizione sul virus e dalle più recenti a disposizione degli organi competenti, perché è evidente che se l'organo di competenza ti dice che del triage te ne devi fregare perché devi fare un tampone o tre tamponi, ovviamente questo rischia di non servire più. Quali erano gli scenari che erano stati ipotizzati dal GIS? Lo scenario 1, sintomatologia assente, quindi triage negativo, lo scenario 2, sintomatologia lievoa specifica, quindi un triage positivo solo per rischi, e lo scenario 3, sintomatologia conclamata, quindi test covid positivo, quindi questo è lo scenario 3. Scenario 1, facile da capire, se lo scenario è 1, la procedura prima avrà eseguita secondo le metodiche standard della struttura. Lo scenario 2, questo inizia a essere più complesso perché è necessario effettuare esami da procedimento diagnostico e consulenza infettivologica, perché ovviamente il paziente deve capire che cosa gli può succedere, se poi nel momento in cui rimane gravida, fa il transfero, rimane gravida, che cosa gli può capitare. Si rivaluta il triage al giorno dell'inizio della stimolazione ovarica, quindi il secondo triage, e in questo caso se è negativo si va avanti con lo scenario 1, se fosse positivo si va sullo scenario 3, quindi viene rimandato il ciclo. Scenario 3, la paziente ha il covid, o ha un test covid positivo, ovviamente deve essere rimandato, e la paziente peraltro deve essere mandata a una struttura che si occupa di covid. Gestione dell'accesso al centro, l'organizzazione del monitoraggio ecografico, perché questo è un altro problema, cioè noi sappiamo che gli accessi non sono solo il giorno che deve essere fatta la fecondazione assistita, quindi il prelievo degli ovociti, ma anche nel momento in cui si fanno i triage ecografici. Questi ve le risparmio sono ovviamente tutti i tentativi per cercare di non avere contaminazione della struttura, e la sanificazione deve essere fatta ad ogni cambio di paziente, e ogni paziente deve avere la certezza che se le scrivanie, il lettino ginecologico, la sonda che sono state utilizzate prima, ma sono in qualche modo state disinfettate, quindi sanificate. Prima del prelievo degli ovociti, abbiamo il testo triage, quindi se lo scenario 1, sintomatologia ancora assente, triage negativi, regolare esecuzione del pick up e del transfer, lo scenario 2, quindi con la sintomatologia lieve o a specifica, ho avuto mal di gola, ho avuto diarrea, a queste che sono situazioni che possono essere legate anche ad altre problematiche, però in realtà comprese nelle problematiche del coronavirus. In questo caso, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che la paziente arriva la mattina dicendo che la sera prima o due sere prima aveva avuto una diarrea o comunque sintomi lievi. In quel caso, quello che era stato deciso era di fare un test rapido per le immunoglobuline, quindi per poter almeno essere tranquilli che il virus era stato asintomatico prima, ma poi in qualche modo era compasso anche con la sintomatologia, quindi era compasso anche negli anticorpi. Sappiamo bene, ve lo farò vedere dopo, che questo non può essere così preciso perché le immunoglobuline non beccano nel momento stesso in cui ciascuno di noi, un paziente, può essere in qualche modo infettante. Lo scenario 3, quindi se ci fosse stata una sintomatologia conclamata, andava in qualche modo rimandato il pick-up o il transfer e probabilmente solamente nel caso in cui ci fosse stato un rischio di pestimolazione andava trattato a quella paziente per prelevare gli ovociti come covid positivo. Al prelievo ovocitario sappiamo che se erano sintomatici, vabbè, si faceva tutto quello che doveva essere fatto. Nei pazienti in sospetti o positivi al test rapido la problematica che si pone è quella della salvaguardia degli operatori, quindi sala operatoria e possibilità di infezione per gli operatori. Sappiamo che le nostre anestesie non sono anestesie endovenose, quindi non fanno spray, quindi sono meno complesse di quello che si può avere in una sala di rianimazione dove ovviamente lo spray è molto più importante. In ogni caso comunque la paziente si mantiene la mascherina anche sotto ossigeno e gli operatori indossano gli FP2 e vengono vestiti proprio col doppio camice e quindi come se la paziente fosse realmente positiva. queste sono le varie situazioni, quindi che cosa deve essere fatto dall'equip e cosa deve fare la paziente nel momento in cui si entra in sala operatoria, sapendo che ovviamente è meglio tenere per ultimo la paziente piuttosto che tra le prime della mattina e comunque in ogni caso sanificare completamente gli ambienti nel momento in cui la paziente esce dalla sala operatoria dovesse rientrare qualcuno. Questo è quello che vi ho appena detto, quindi la sanificazione, laboratorio e attrezzature utilizzate e quindi tutto quanto deve essere sanificato per evitare il passaggio anche semplicemente da parte del toccare le attrezzature. Il materiale ovviamente che viene utilizzato deve essere smaltito come se fosse per esempio una paziente con epatite C. Al transfer, il transfer è più facile perché è evidente se la paziente continua ad essere negativa fa il transfer, se la paziente invece avesse accertato sintomi particolari o altro qui è più di salvaguardia quello di congelare tutto e quindi di aspettare di avere test successivi. Quindi ad oggi peraltro l'energia di conservazione non esiste perché questo è un altro problema come facciamo a congelare queste cellule e questi embrioni se c'è il virus e quindi in qualche modo dobbiamo utilizzare altre tank, altre banche. Siccome non c'era evidenza scientifica che questo potesse essere portato si è ragionato sul fatto di organizzare il congelamento utilizzando le dispositive d'alta sicurezza che in qualche modo sono già utilizzati per evitare la trasmissione dei virus tra i pazienti. Queste sono le linee guida dell'escere ve le faccio vedere velocemente quello che era stato chiesto cioè ipotizzato per lo staff quindi per poter lavorare perché è evidente che anche i controlli che devono essere stati fatti e devono essere fatti nei centri è anche quello che gli operatori non siano loro stessi portatori poi del virus all'interno all'interno del centro quindi in qualche modo anche gli operatori possono non possono entrare a lavorare a seconda della loro condizione di triage quindi condizione clinica per i pazienti anche l'escere in qualche modo aveva ipotizzato la stessa cosa che era stata ipotizzata dalla Sigo queste sono le ripetizioni ma ve le risparmio ovviamente se le IgM e le IgG fossero state positive di posporre il trattamento e di andare ovviamente a far trattare quella paziente per la patologia questo è il triage ma l'abbiamo già detto in pratica come comportarsi con gli anticorpi quindi che cosa fare in termini sia al momento del pick up degli ovociti sia al momento del transfer ma diciamo che l'escere ha ripetuto in tutto e per tutto quello che era stato ipotizzato dal GIS della Sigo ecco questo è il famoso motivo per cui le autorità regionali ad esempio in Lombardia ma anche in Abruzzo e forse qualche altra regione hanno imposto un tampone a tutti i pazienti prima di fare il pick up il motivo è che con il tampone praticamente voi vedete si riesce a evidenziare la presenza del virus ancora prima di avere sintomi mentre invece con gli anticorpi in pratica noi abbiamo il paziente che ha già il virus quindi può essere in qualche modo infettante lo sappiamo il tampone viene considerato a tutt'oggi il gold standard per la maggiore sensibilità specifici della diagnostica la serologia in pratica ha il difetto di intervenire un pochettino troppo tardi quando è già possibile l'infezione il trasmettere l'infezione ad altri però volevo farvi vedere questo perché noi lavoriamo in due realtà lavoriamo sia in Lombardia sia in Emilia Romagna per farla breve dove in Lombardia è previsto un tampone per qualsiasi paziente che vada in sala operatoria attenzione non per qualsiasi paziente entri in un reparto o entri in ospedale ma per i pazienti che vanno in sala operatoria in Emilia Romagna invece è previsto per i pazienti che vanno nelle sala operatoria quindi vengono fatte anestesie con intubazione ma non è previsto per i pazienti che vanno in ambulatorio chirurgico se noi guardiamo l'attività i numeri adesso non sono altissimi però diciamo che abbiamo da una parte e dall'altra 200 e 250 pazienti che abbiamo trattato e nessuno dei casi da una parte il tampone è risultato sempre negativo quindi in 255 pazienti il tampone è stato negativo poi a quello andrebbe aggiunto tutti quelli che hanno fatto lo scongelamento e anche in quel caso erano tutti negativi e quando abbiamo utilizzato la metodica del triage abbiamo avuto nessun paziente positivo nel post procedura perché poi noi lo sappiamo i pazienti successivamente ti chiamano e quindi ti dicono se per caso è venuto quindi in entrambi i casi diciamo che il fatto di fare triage il fatto di avere pazienti che forse sono più attenti non so dirvi però sono pochi probabilmente qui dopo forse in discussione può valere la pena sapere qual è la vostra esperienza che hanno avuto un tampone positivo e che sono stati rimandati questo è l'articolo che è stato pubblicato su Airbiamo Online dalla SIFES come statement della società italiana di fertilità e sterilità questo è quello che è stato pubblicato invece dalla SIR quindi la società degli embriologi e questo è l'ultimo del 8 settembre pubblicato dalla SRM dove come ultima cosa si incoraggia il fatto di fare la vaccinazione a tutte le persone che cercano la gravidanza per poter discriminare almeno chi avrà l'influenza dal covid questa è una frase che mi ha inserito Valentina Spadoni che mi ha aiutato nel fare le diapositive che dice appunto non temete i momenti difficili il meglio viene da lì siamo siamo riusciti a ottenere il meglio secondo voi lavoriamo meglio lavoriamo peggio secondo me lavoriamo un pochettino peggio perché abbiamo molta burocrazia in più e i pazienti hanno molte più problematiche e probabilmente senza che questo sia così indispensabile se vengono utilizzate alcune fasi di screening appunto di triage viene mantenuta la mascherina e tutte queste cose vi ringrazio grazie Andrea grazie Andrea per aver introdotto l'argomento della tavola rotonda ovviamente molto attuale allora adesso entriamo nel vivo invece della parte tra virgolette un po' più biologica e per me quindi è un piacere chiamare il professor Foresta che ovviamente ci parlerà di covid-19 teniamo tutte le domande per la fine della sessione e Carlo anche tu hai 20 minuti assolutamente prego cercherò anche di essere breve intanto grazie per l'invito ho ascoltato con molta attenzione quanto ha detto Andrea Borini e lo ringrazio perché io non mi soffermerò sulle parti tecniche di prevenzione perché hai detto tutto quanto in modo molto chiaro quindi sono io posso andare avanti sì grazie allora permettetemi di fare un discorso un po' più complesso e un po' più ampio per quanto riguarda il covid e l'uomo il covid e testicolo il covid e spermatozoi quindi partiamo dal covid e uomo e non vi devo aggiungere niente su questo ma già nel 2003 un altro tipo di coronavirus quello che dava la SARS si è visto che aveva colpito con maggiore gravità l'uomo rispetto alla donna la letalità 21,9 per l'uomo 13,2 per la donna ma ancora un altro tipo di coronavirus quello che dava la MERS nel 2012 lo stesso aveva colpito per quanto riguarda la gravità più l'uomo rispetto alla donna l'ultimo vedete che a parità di rischio di infezione tra uomo e donna la suscettibilità alla severità delle manifestazioni cliniche è di gran lunga molto più frequente nell'uomo rispetto alla donna per quale motivo qual è questo il cromosoma Y è l'ormone è le modalità di vita dell'uomo che portano a questo tipo di gravità non signora adesso analizzeremo qualche passaggio questa foto vi è nota voi sapete che questo virus ha degli spike che sono fondamentali perché ci possa essere l'infezione e sono questi spike che riconoscono poi nel polmone un loro recettore che è il recettore ACE2 l'ACE2 lega il virus ma non consente l'infezione della cellula perché ci deve essere un taglio dell'ACE2 da parte di una serina proteasi che toglie via lo spike mette a contatto le due membrane cellulari e queste possono poi entrare nella cellula quindi noi abbiamo da una parte due attori la serina proteasi e l'ACE2 che devono essere tutte e due presenti nell'organo che poi sarà infettato questo è un fatto molto importante qui è tutto quanto sintetizzato ma andiamo avanti ma cos'è l'ACE2 l'ACE2 normalmente ha una funzione tampone cioè tenta di modulare in senso come dire benefico le attività invece dell'angiotensina 2 voi sapete che l'angiotensina 2 che si forma nel polmone è una sostanza che forse ha un potere vasoattivo vasocostrittore più importante che ci sia nell'organismo quindi l'angiotensina 2 porta ad una vasocostrizione quindi alle infiammazioni alla fibrosi eccetera eccetera parte dell'angiotensina 2 grazie all'ACE2 si trasforma invece in un'altra angiotensina 1,7 che si contrappone alle attività vasocostrittive ed infiammatorie dell'angiotensina 2 quindi l'ACE2 è il fattore che equilibria in senso positivo la funzione vasocostrittiva proprio di questo ormone se noi attraverso l'infezione riduciamo l'ACE2 perché il virus occupa questo recettore occupa questa proteina è chiaro che l'equilibrio si sposta verso l'angiotensina e quindi si sposta verso la vasocostrizione verso tutte quelle manifestazioni cliniche che soprattutto nel polmone danno poi la reattività la cascata infiammatoria l'ipertensione la ipercoagulabilità eccetera eccetera quindi l'ACE2 diventa un momento importante e cosa sappiamo dell'ACE2 che mappa sul cromosoma X sul braccio corto del cromosoma X questo significa che la donna avendo due X in linea generale ha più probabilità di avere più espressione di ACE2 anche perché l'inattivazione di questo intervallo può essere non completa c'è possibilità che l'ACE2 il frammento che sta in quell'intervallo non sia inibito e quindi la donna può essere costitutivamente più pronta ad avere più ACE2 ma ancora cosa sappiamo noi dell'ACE2 fra uomo e donna sappiamo che nel maschio il gene ACE2 è più metilato rispetto alla donna quindi più metilato significa meno funzionante e sappiamo ancora che gli estrogeni sono importanti regolatori positivi dell'espressione dell'ACE2 nella donna quindi la donna in un certo senso noi ce la immaginiamo più pronta ad avere più recettori ACE2 e quindi rimangono più liberi per contrapporsi a quella cascata che viene poi innescata dal virus quando questo arriva nel polmone ma c'è ancora un'altra cosa dicevamo che gli attori sono due che possono determinare poi l'infezione l'ACE2 da una parte e l'aserinoproteinasi dall'altra ma questa serinoproteinasi è una proteina che è fortemente androgeno dipendente quindi l'androgeno stimola il secondo attore che taglia l'ACE2 e consente poi l'infezione della cellula stessa quindi l'uomo verosimilmente ha più probabilità di avere manifestazioni cliniche perché ha meno ACE2 da utilizzare come difesa e ha più testosterone che invece aiuta la penetrazione del virus nelle cellule stesse questa è la sintesi questi sono i nostri lavori che abbiamo pubblicato per giustificare per portare avanti queste teorie cosa c'entra il covid con il coronavirus con il testicolo abbiamo detto che perché un organo possa infettarsi deve avere da una parte l'ACE2 e dall'altra la serinoproteinasi le due situazioni devono essere coespresse infatti nel polmone sono ampiamente coespresse le due situazioni e nel testicolo nel testicolo noi abbiamo una positività importante dell'ACE2 e abbiamo anche l'espressione dell'enzima serinoproteasi ma chi sono le cellule che esprimono questo intanto diciamo che nella donna nell'ovaio non c'è questo quindi il testicolo ha la possibilità di essere infettato la donna no ma quali sono le cellule del testicolo che possono essere infettate sono la coespressione dei due attori noi ce l'abbiamo nelle cellule del sertoli e negli spermatogoni quindi se dovesse arrivare a livello testicolare questo virus può essere captato può essere integrato soltanto nelle cellule del sertoli e negli spermatogoni che sono giusto quelle cellule le uniche del tubulo che possono essere come dire possono acquisire elementi che circolano nel sangue perché tutte quante le altre cellule come voi ben sapete non possono avere diretti di come dire collegamenti con le sostanze che circolano nel sangue perché la barriera emato-testicolare impedisce questo quindi se noi escludiamo gli spermatogoni tutte quante le altre cellule non possono avere questo tipo di contatto già l'altra SARS sia 1 che SARS 2 era stata valutata per questo aspetto e vedete che sono stati riportati delle alterazioni tubulari però nessuno si era mai concentrato sulla modalità attraverso la quale questi coronavirus inducevano alterazioni del tubulo comincia ad essere sempre più frequente il riscontro di dolore testicolare nei pazienti che soffrono adesso di covid-19 come mai vedete che sono delle come dire pubblicazioni molto recenti un dolore addominale e dolore testicolare sintomi che comprendono febbre e dispenea dolore testicolare questo è l'ultimo caso che è stato pubblicato di un ragazzo di 14 anni con dolori testicolari non è strano se ci ricordiamo che nel testicolo noi abbiamo l'espressione sia dell'ACE2 che dell'enzima che consente poi la penetrazione ma poi come sono i testicoli di questi soggetti qui abbiamo uno studio anche questo recente che ha valutato l'istologia di pazienti che erano stati affetti da infezione ipospermatogenesi dappertutto ma non sappiamo come erano prima dell'infezione in un unico caso è stato trovato anche il virus presente nella biopsia in un unico caso e tutto quanto questo è in accordo con quanto vi ho raccontato poc'anzi quindi non ci meraviglia e questo è il quadro seminale dell'alterazione tubulare e nel liquido seminale nel liquido seminale questi sono i lavori che sono stati pubblicati di recente e fin qua non c'è nessun caso positivo per il virus nel liquido seminale dei pazienti infetti attenzione però perché come potete ben immaginare non è stato facile ottenere liquidi seminali da paziente in fase avanzata di patologia quindi o erano asintomatici o con una sintomatologia clinica di media entità i cinesi hanno trovato sei casi positivi su 38 il 15 per cento sono gli unici per il momento è possibile certamente io non mi immagino che questa positività possa venire dall'infezione testicolare studiamo anche che si tratti di una contaminazione ma quando è presente nel liquido seminale cosa significa che questo virus può essere arrivato nel liquido seminale attraverso le altre vie attraverso la prostata per esempio e seguendo il discorso che vi ho fatto poc'anzi la prostata può essere un organo infettato dal nostro virus può essere perché un 15 per cento di cellule prostatiche risultano positive per l'ACE2 e per l'enzima che consente la penetrazione poi del virus stesso un 15 per cento ma quali sono queste cellule eccolo qua la coespressione dell'ACE2 e della serina proteasi noi la troviamo nel dotto prostatico e nell'uretra quindi è possibile che laddove ci sia l'infezione che abbia raggiunto quelle sedi la contaminazione del liquido seminale possa avvenire e quindi trovare anche il virus nel liquido seminale stessa ovviamente noi non abbiamo nessuno questi signori sono andati a cercarsi nel secreto prostatico se c'è il coronavirus ma non l'hanno trovato ma siamo in fase ancora iniziale quindi le due importanti questioni che mi sono state poste può essere il SARS-CoV-2 trasmetto attraverso la via seminale unica prova che abbiamo sono i cinesi ma non sappiamo poi attraverso quale via arriva nel liquido seminale di sicuro dobbiamo dimostrare che questo qua possa avvenire attraverso la secrezione prostatica può il SARS-CoV-2 alterare la fertilità causando un insulto testicolare sì questo sì ma noi l'insulto testicolare non possiamo determinarlo nel momento in cui c'è l'infezione perché le condizioni generali di quel soggetto sono talmente alterate che di per sé alterano la funzione tubulare di per sé alterano la spermatogenesi quindi dare un significato preciso al tipo di alterazione e collegarla direttamente al virus è veramente impossibile quindi dovremmo aspettare almeno mesi per capire bene qual è l'entità del danno tubulare che è stata causata da questo virus ammesso che abbia raggiunto le cellule del Sertoli e gli spermatogoni con questo io spero di avervi dato qualche informazione ricordiamoci di chiedere casomai se qualcuno si è ripreso da questa malattia se ha avuto dolori testicolari perché questo è importante e ricordiamoci ovviamente di continuare a studiare perché non è ancora tutto quanto chiaro e quindi dobbiamo andare ancora avanti vi ringrazio grazie al professor Forresta per questa bellissima relazione e introduco la dottoressa Lucia De Santis che ci parlerà di oociti embrioni e covid-19 allora buongiorno a tutti e grazie per l'invito ad Andrea in questo ventesimo un po' particolare Tecnobios o 9.babys procreazione Tecnobios procreazione simposio o 9.babys simposio è abbastanza emozionante perché posso dire di avere preso parte a tutte le edizioni credo se non come relatore come partecipante e ieri poi David ci ha portato per mano in questo cammino ed è stato bellissimo io niente potrei già finire qua la mia relazione perché i relatori che mi hanno preceduto hanno detto tutto ma cerchiamo di ricostruire quello che è successo perché a me interesserebbe in particolar modo che cercassimo di portare a casa un messaggio perché sugli embrioni gli oociti in letteratura c'è pochissimo quindi quello che vi farò vedere in realtà è un trasposto di quello che abbiamo già sentito dire per il gamete maschile su cui si hanno moltissime più informazioni non fosse altro per quello che ci ha detto il professor Foresta ma in realtà noi ci siamo molto focalizzati su questa parte della pandemia cioè come trattare i nostri pazienti in pandemia quando probabilmente lo dico da lombarda abbiamo trattato pazienti affetti o potenzialmente affetti probabilmente già mesi prima che fosse chiaro che siamo in una situazione pandemica quindi noi dobbiamo ricordarci che al 10 di marzo siamo andati in lockdown quello che ci dà l'escere come fotografia nella seconda settimana di luglio è una Europa ancora un po' geopardizzata con alcuni che stavano facendo trattamenti di PMA ed erano in verde noi che per esempio con Francia e Spagna e Inghilterra avevamo già ampiamente discontinuato o comunque avevamo ridotto e portato avanti solo le procedure di Fertility Preservation e poi una fase cosiddetta la fase 1 alla fine del lockdown il 4 di maggio in cui e questa è la situazione monitorizzata sempre da Lesch nelle sue cartine geografiche Lesch ha fatto un lavoro importante in questo senso in cui avevamo che diciamo tutta l'Europa centro-meridionale aveva ricominciato o stava ricominciando le sue attività rimaneva la Francia e l'Irlanda con l'Islanda poi al nord che avevano deciso per il momento di non riprendere i cicli quindi questo ci dà già una misura che tutte anche le informazioni che dovessimo recuperare su questi ovociti ed embrioni pagheranno il prezzo di una disomogeneità assoluta di quello che è stato il trattamento durante il tempo pandemico quindi che cosa sappiamo ce l'ha appena detto splendidamente il professor Foresta sappiamo che è un virus respiratorio o meglio sapevamo questo quando siamo andati in lockdown e avevamo queste esperienze che ci venivano non nell'ambito della procreazione assistita ma nell'ambito della medicina generale della clinica medica su SARS e MERS che ci va dalla coespressione di ACE2 e della serina proteasi l'abbiamo ormai inteso e quindi noi sappiamo che questo è un chiavistello che deve funzionare per poter fare in modo che il virus acceda a quel tessuto o a quella cellula in realtà noi sappiamo che avere la presenza del recettore e questo è stato un'altra delle cose su cui la stampa si è buttata subito c'è l'ACE2 e quindi se c'è quel recettore c'è quell'altro recettore ecoespresso cosa diceva la divulgazione insomma un po' più di basso profilo c'è sicuramente succederà questo sicuramente succederà quest'altro in realtà i lavori ci hanno subito fatto capire che la presenza del recettore non significa automaticamente presenza del virus e quindi sicura infettività di quella cellula che cosa sappiamo per le cosa sappiamo e che cosa sapevamo quando siamo andati in lockdown di quello che è la capacità contaminante del virus sulle cellule riproduttive beh nel campo maschile vedete non c'era grandi evidenze ve le ho portate lo stesso ben sapendo che mi avrebbe preceduto una relazione sul gamete maschile perché vorrei fare qualche altra considerazione dopo io il lavoro di Giamma francamente non l'ho neanche riportato perché ritengo che fosse veramente fuorviante e quindi non l'ho neanche riportato ma per esempio anche il lavoro del gruppo italiano di Donatella Paoli della Sapienza evidenziava che la presenza o meno del virus nel liquido seminale non è assolutamente sintomatica di un'infezione nelle cellule riproduttive maschili per quanto ricordava per quanto ho potuto vedere ancora adesso attualmente non ci sono evidenze che ci sia una contaminazione delle cellule della linea germinale femminile l'ESCRA aveva subito per esempio fatto notare nel suo statement il 17 aprile che la zona pelucida rappresentava di fatto già di per sé una protezione noi lavoravamo già con le cellule isolate tra virgolette e quindi questo ci metteva in una situazione se non di sicurezza che non avremo mai ma sicuramente di buona di buona cautele ma anche di rassicurante ho cercato l'altro giorno di vedere in letteratura se fosse emerso qualcosa di nuovo specificamente sulla linea femminile e vi dico che a tutt'oggi in letteratura non si trova praticamente niente questo è un commentare che è uscito ad agosto su questo eclinical medicine che è una rivista del gruppo di The Lancet che mi aveva accattivato come titolo perché me l'aspettavo come come un po' più diciamo è vero che fosse un commentary ma insomma me l'aspettavo un po' più di ampio respiro in realtà nell'abstract dicono che abbiamo poche informazioni sul rischio di gameti insomma relativamente ai trattamenti di art però poi fa due considerazioni che ho identificato con la freccia 1 e 2 vabbè nel primo che ci possa essere questa espressione perché nell'ovocita maturo sembra che ci sia un livello aumentato rispetto a cellule a un livello inferiore di maturità dei recettori ACE2 e TM PRSS2 poi però si sbilancia su un aspetto che secondo me non è tanto inerente la nostra situazione cioè sulla possibilità di contaminazione del fluido follicolare durante una procedura come se noi realizzassimo una procedura a una paziente fortemente sintomatica o che è testata positiva cosa che in realtà noi non facciamo quindi in realtà io mi preoccuperei di più del punto 3 che è la contaminazione esterna e a questo proposito tutte le società italiane sono state tra le prime a scrivere position statement a distanza di pochi giorni è uscito quello della SIFES su RBM online primo autore Alberto Vajarelli e a distanza di pochi giorni era uscito il nostro come lettera all'editore su Human Reproduction che era in realtà il sunto che noi facevamo come lettera all'editore di quelle che sono le raccomandazioni che avevamo fatto alla fine di marzo ma in realtà tra gli operatori del laboratorio si è percepito che forse questi statement che facevano le società scientifiche italiane ma anche estere quindi le SRM e le ESCRE quindi oltreoceano e al di qua dell'oceano potessero essere percepite anche come un po' troppo soft però in effetti non andavano così tanto lontane da quelle che poi sono state riassunte anche dalla nostra Competent Authorities c'è anche quest'altro lavoro che è uscito nel primo nome Cristina Hickman ma anche Laura era in questo gruppo in questo studio e di fatto insomma le raccomandazioni che sono uscite sono tutte quelle del buon senso e quindi in realtà di attenzione e ha fatto tanto l'ESCRE e lo posso dire perché in quel periodo ancora ero rappresentante nazionale insieme a Gianluca Genarelli e abbiamo dovuto lavorare molto intensamente per fornire i dati al Covid Working Group che si era da poco costituito e tutto poi esitato in quel lavoro che ha mostrato Andrea che insomma è stato pubblicato su HR Open l'ESCRE quello che sicuramente va detto è che chiunque a tutt'oggi voglia avere un sunto di tutto quello che è stato pubblicato in materia può sicuramente trovare in questo sito quanto desidera e soprattutto io mi auguro che la risposta alla relazione che avrei dovuto fare io ce la daranno i lavori che verranno anche nell'ambito dell'ESCRE grant che quest'anno appunto è focalizzato su questo tema anche a noi abbiamo mandato un abstract come SEER questo era il logo un po' carino che avevamo creato con dentro questo virus cattivello e abbiamo mandato un abstract in realtà proprio in una di queste sessioni specifiche abstract che è stato accettato come oral presentation l'ha presentato per noi Attilio e Anastasi ecco e lì secondo me sono venute fuori delle cose interessanti che vi ho portato brevissimamente non per tediarvi su un argomento che non era che era quello della Fertility Preservation ma perché di fatto c'è stata più attenzione almeno nel periodo di lockdown quindi in quelle due date che vi ho fatto vedere 10 marzo 4 maggio l'attenzione soprattutto ai trattamenti di Fertility Preservation che invece tutti noi con molto orgoglio abbiamo detto che non saremmo stati disposti a discontinuare eppure noi abbiamo proposto una survey ai nostri soci chiedendo una comparazione tra questo periodo del 2020 e l'equivalente periodo del 2019 e c'è comunque stato un sensibile calo di accesso anche per quello che riguardava la Fertility Preservation e quindi questo ci fa pensare che comunque ci sia stata una riduzione degli accessi anche per patologie come quelle oncologiche poi vabbè nell'abstract se volete vi interessa andate a vederlo però insomma si esperivano anche tutta una serie di dubbi sul perché questo potesse essere successo cioè paura mancato accesso al centro per difficoltà di accesso al centro paura della malattia quindi l'oncologo che non suggeriva al paziente di non esporsi a questo rischio difficoltà nell'esecuzione dei tamponi che vi garantisco in alcune regioni non è stato facile fatto sta che noi abbiamo visto che durante il periodo di lockdown le nostre cellule gameti sono stati congelati in una percentuale minore e questa penso che vi possa servire perché si raccorda bene a quello che ha detto Andrea sulle modalità con cui noi abbiamo scrinato i pazienti che per la maggioranza sono stati scrinati sulla base di un triage e almeno questo a livello nazionale della nostra survey un 33% con l'esecuzione del tampone e solo un 6% con entrambe le tecniche però io vi voglio far vedere per quello che attiene la mia relazione le ultime due barre quella verde e quella rossa che riguardano la modalità di stoccaggio perché questa invece è una cosa che possiamo andare a discutere cioè subito la domanda di tutti è stato oh caspita e tutti gli embrioni cioè la pandemia è iniziata è stata dichiarata il 10 marzo ma tutti i mesi che abbiamo lavorato noi in cui probabilmente c'era già un'ampia circolazione del virus come li abbiamo congelati i nostri spermatozoi i nostri oviciti i nostri gameti in che tank anche li abbiamo tenuti nessuno di noi ovviamente non conoscendo la patologia li aveva mai tenuti in tank separati a meno che non avessero loro stessi una loro richiesta in questo senso e in realtà alcuni poi dopo l'inizio della pandemia hanno scelto di quarantenare i campioni però su una base che è totalmente empirica tant'è vero che moltissimi centri e anche le linee guida non suggerivano necessariamente di usare una banca specifica perché poi li quaranteni e poi li quaranteni rispetto a che cosa allora dovreste avere una quarantena per ogni singolo paziente che potrebbe positivizzarsi quindi vabbè questa è la modalità di triage che abbiamo già visto queste sono le nostre linee guida sulle quali ci siamo mossi ma soprattutto noi abbiamo stressato moltissimo il concetto che in realtà di tutte forse le aree di un centro di medicina della riproduzione il laboratorio era quello che era già meglio attrezzato da tutto quello che era venuto dalle normative che ci regolavano perché in realtà noi abbiamo soltanto dovuto implementare una serie di procedure che quotidianamente noi facciamo forse quello che abbiamo aumentato è l'utilizzo dei DPI magari il doppio occhiale la visiera un utilizzo più estensivo del guanto ecco una cosa importante il rispetto tra colleghi perché non ci si può ammalare non ci si può permettere di trasmettere essere noi i vettori della malattia quindi proteggersi dal paziente proteggere il paziente e proteggersi tra di noi per esempio noi facciamo abbastanza ossessivamente adesso la pulizia degli oculari tra un operatore e l'altro sembra una banalità ma siccome una delle vie di trasmissione è anche quella della congiuntiva se il collega prima di te non ha gli occhiali e tu non hai gli occhiali che costituiscono comunque una minima barriera non ha anche solo l'occhiale da vista tu vai a mettere gli occhi dove magari il collega si è appena appoggiato quindi puoi avere tutti i presidi della terra ma se non proteggi l'occhio e poi noi pensiamo e siamo suffragati da ampia letteratura che probabilmente la capacità di trasmettere delle nostre cellule la patologia virale è minima perché noi andiamo avanti con tanti processi di diluizione questi sia in fase di coltura che in fase del transfer che in fase di crioconservazione sia in crioconservazione che in warming e poi torniamo al problema per cui vi ho fatto focalizzare sulle due barre del grafico lo stoccaggio che probabilmente è la cosa che ha preoccupato tutti abituati come siamo a questa ossessiva attenzione alle patologie virali la B la C il citomegalo per le regioni che lo chiedono ma ha senso congelare questi nostri gameti o embrioni in una modalità diversa allora è vero che c'è stata una forte indicazione all'utilizzo delle high security straw ma noi ci dobbiamo chiedere se sono strettamente necessarie perché gli ultimi minuti della mia relazione vi vorrei dedicare agganciandomi a quella domanda provocatoria che ha fatto Andrea cioè lavoriamo meglio o lavoriamo peggio perché è vero che dalle situazioni stressanti nasce il meglio lo diceva pure De Andrè però il problema è che secondo me noi stiamo lavorando in una situazione che è molto demanding e molto stressante spesso proprio per ottemperare a tutto il distanziamento al fatto di magari lavorare in due squadre eccetera siamo anche fisicamente meno in laboratorio e quindi più sotto pressione quindi attenzione ad applicare metodiche che non sono standardizzate nel nostro laboratorio perché a volte per eccesso di zelo potremmo rischiare di andare a fare a sottoperformare dal punto di vista clinico e questo secondo me è un rischio che tuttora noi abbiamo concreto poi ovviamente c'è chi suggerisce di congelare i vapori piuttosto che l'azoto liquido ma non ci sono dimostrazioni che nell'azoto liquido il potere contaminante sia superiore ci sono vecchi lavori fatti con gli altri patogeni virali certo l'azoto è sicuramente un vettore virale ma noi non possiamo se utilizziamo tutte le nostre procedure standard pensare di poter completamente diminuire questo rischio quindi attenzione a come lavoriamo a come processiamo i nostri campioni bellissimo il lavoro della Roberta Maggiulli che invito tutti gli embriologi a leggere perché conclude sicuramente che le standard laboratori protocol so procedures quindi quelle del nostro manuale che noi abbiamo applicato possono essere insufficienti e che quindi dobbiamo implementarle va tra l'altro molto bene nel dettaglio però non è che ci stia dicendo che noi lavoriamo male e dobbiamo cambiare cioè la FMEA non ci dice stiamo sbagliando tutto con il SARS-CoV ti pone l'attenzione su tutta una serie di passaggi che dobbiamo sicuramente migliorare o attenzionare ma che potrebbero essere utili poi in qualunque altra circostanza circostanza futura e un'altra per esempio delle cose ne ho portato uno di esempio come dicevamo congelo col sistema aperto da una vita mi metto a congelare col sistema chiuso probabilmente sottoperformo e quindi meglio avere più cautele sul tuo singolo passaggio che non andare a prendere qualcosa di assolutamente nuovo anche perché ribadisco noi da triage e da screening i pazienti positivi non li trattiamo quindi è veramente remota la possibilità che andiamo a trattare gameti di pazienti positive il concetto della paillette chiusa o del sistema chiuso forse se ti dovessi trovare a gestire una paziente che sai sicuramente essere positiva potrei considerarlo ma insomma tutto da prendersi con le molle così come per il distanziamento in molti ci troviamo a decidere spesso di far fare la raccolta domiciliare perché non abbiamo gli spazi per gestire l'ingresso e l'uscita dei pazienti io so che molti centri anche il nostro ci siamo necessariamente orientati alla raccolta domiciliare però tante piccole cose e questo è sugli spermatozoi ma poi si ribatte sugli ovociti perché se noi vogliamo che i nostri ovociti e i nostri embrioni abbiano ottimi tassi di fecondazione ottimi tassi di clivaggio così come li avevamo pre-pandemia noi dobbiamo stare attenti a non fare delle cose che per evitare il rischio di una potenziale contaminazione ci fanno in realtà avere delle conseguenze negative su quello che è la performance nel nostro ciclo l'ho chiesto a Giovanni sta diapositiva perché mi ricordavo che c'erano dei dati e quindi per esempio nella preparazione del seme è noto che un seme che venga preparato troppo anticipatamente rimanga troppo troppo preparato prima di eseguire la tecnica potrebbe avere un maggior tasso di frammentazione del DNA quindi ma questo è un esempio ma solo per dire che camminiamo sulle uova quindi stiamo attenti a non essere investiti quando camminiamo e poi l'altra cosa ho 20 secondi e chiudo un'altra cosa che non abbiamo assolutamente la sfera di cristallo per poterlo capire è ancora che cosa determini al di là dell'espressione o della coespressione dei due recettori ACE e serine proteasi sono perché comunque questa malattia colpisce a una maggior letalità negli uomini rispetto che le donne e non probabilmente non è sufficiente dire che è legato all'attività degli estrogeni a una protezione a una diversa responsività dell'apparato scusate del sistema immunitario perché vedete che questo fatto che muoiono di meno le donne rispetto agli uomini si mantiene anche in classi di età questi sono dati lombardi ma ben oltre la menopausa quindi insomma un po' semplicistico pensare al fattore protettivo degli estrogeni e poi non sappiamo come evolverà la nostra pandemia la più probabile il più probabile degli scenari era quello che noi non avremmo voluto ma è l'uno probabilmente stiamo facendo fronte esattamente a un secondo picco pandemico quindi dobbiamo aspettarci di avere questo tipo di picchi e quindi in funzione di quello noi dovremo ovviamente modulare la nostra attività e quindi pensare a una gestione dei nostri gameti in funzione di quello e poi ci sono le novità questa di settimana scorsa si è scoperto che in realtà probabilmente un'altra via di ingresso al virus è la neuropilina 1 che è ampiamente distribuita all'interno dei distretti corporei e potrebbe costituire una novità almeno da un punto di vista clinico perché renderebbe ragione anche di sintomatologie a livello neurocognitivo importanti la situazione è questa questa è la cartina dell'Italia guardate quanti sono i centri guardate qual è la regione con più casi di infezione ma anche quella è la regione con più centri di fecondazione assistita stiamo meglio dell'Europa ma non cantiamo vittoria ho aspettato ieri sera alle 9 per avere questi grafici che venissero pubblicati vedete che la distribuzione regionale dei casi attualmente positivi sintomatici quindi ricoverati in isolamento domiciliare o con sintomi è questa e quindi con questa dobbiamo fare i conti ma ancora peggio è che il rapporto positivi rispetto a tamponi sta piano piano ma inesorabilmente risalendo quindi noi adesso continuiamo a lavorare come se avessimo fatto la riapertura quindi in un momento in cui l'infezione stava scendendo ma adesso l'infezione sta salendo quindi queste sono tutte cose di cui dovremmo tenere a mente insomma sulle quali dovremmo fare delle considerazioni quindi non vi ho parlato di ovociti e di embrioni perché vi ho parlato di come cercare di preservarli siamo nell'era in cui è meglio sentire un qualcos'altro rispetto a un colpo di tosse però non andiamo nel panico teniamo comunque la guardia alta e rispettiamo non solo i nostri pazienti il loro materiale biologico ma anche i nostri colleghi perché è dalla funzionalità dell'equip che poi funziona tutto quindi ringrazio anche i miei colleghi ovviamente del San Raffaele i colleghi dell'Eschere con il quale abbiamo lavorato io personalmente ci ho lavorato per sei anni e quest'ultimo anno è stato veramente impegnativo colleghi del consiglio direttivo della Sier ma il ringraziamento più grande per me va a una persona che è speciale che rimarrà nel mio cuore per sempre per la sua ironia qua stava prendendo per i fondelli il coticchio dicendogli vabbè tu mangia mangia che pensi sempre a mangiare io mi bacio la Lucia e grazie professore grazie Lucia allora le domande penso che stiano aumentando vi chiamiamo l'ultimo relatore eccolo sta arrivando quindi dopo gli spermatozoi dopo gli ovociti e embrioni di cui non ci ha parlato Lucia andiamo alle gravidanze e alle nascite e quindi è un piacere chiamare Gianfranco Iorissa prego posso anche relazionare senza mascherino oppure buongiorno grazie e ringrazio Andrea ringrazio Carlo tutti di avermi chiamato di nuovo nonostante io sia un grosso tirapacchi e questo Carlo Forester lo sa benissimo e quindi questa volta però non ho fatto il pacco mi occupo da dieci anni di programmazione materna infantile al Ministero della Salute e questo momento qui del Covid è stato un caos inimmaginabile perché per fortuna io ero a Roma il 18 di febbraio poi avevamo una riunione il 21 il 21 non sono andato e il 21 abbiamo avuto il primo morto a schiavonia i morti li stiamo cioè i casi che succedono in Italia vengono ricontati attraverso l'istituto ma sono tutto a fonte del Ministero della Salute e ad oggi i casi totali sono 304.000 con 35.000 vittime cioè che è il 10% che è un tasso altissimo se lo confrontate con tutto il resto d'Europa dove probabilmente non hanno i dati cioè non filtrono i dati come li filtriamo noi perché non è possibile che noi siamo un paese con il 10% di morte e così arretrato rispetto al resto dell'Unione Europea abbiamo pochissimi dati perché noi se avete visto cosa è successo abbiamo fatto una serie di circolari una per la riorganizzazione di mattina infantile poi ho scritto una cosa che si chiama prestazioni non differibili dove è stata tolta la PMA e toglie la PMA poteva essere una buona idea all'inizio perché abbiamo organizzato uno stato di guerra uno stato di emergenza sanitaria non sapevamo come fare la Lombardia fa degli ospedali da campo insomma ognuno faceva quello che voleva poi toglierla per tanto tempo è stato un errore perché quello è stato un danno alla salute di moltissime donne e come sempre succede nella burocrazia quando tu scrivi una cosa ti rimane lì attaccata per una montagna di tempo e quello che abbiamo siamo riusciti a fare un po' per farvi capire cos'è successo in gravidanza che è con piccole corti perché i numeri quando abbiamo chiesto a tutti i punti nascita 410 punti nascita italiani di rendicontarci ovviamente ci hanno detto ma noi siamo nel panico non sappiamo non abbiamo le mascherine non abbiamo i copriscapo non abbiamo niente quindi abbiamo raccolto pochi dati però questa corte piccola di 146 persone di donne che sono entrate in travaglio nei nostri punti nascita in Italia e per farvi capire è una cosa abbastanza che si può traslare con dati abbastanza statisticamente significative di queste 146 donne 126 cioè l'86% erano in queste regioni colorate cioè che siamo noi il tasso di infezione in Italia era il 2.1 per mille e in contemporanea a marzo era il 4.9 per mille in Inghilterra però in Inghilterra consideravano anche le puerpere però se noi stratifichiamo questi tassi per capire cosa è successo da noi questo 2 era un 3.9 per mille ma io il dato che avevamo noi era che ogni 100 persone entravano 3 positive dove venivano tutte tamponate quindi 10 volte superiore a questo l'1 per mille nelle regioni centrali e 0,2 per mille nelle regioni meridionali verso è stato fatto un impatto perché il CTS è stato istituito a novembre e c'era un impatto di cosa potesse succedere nel Covid in Italia con un numero pazzesco che era il peggior numero che potesse esserci che era 940.000 morti di cui la prima regione colpita Calabria seconda regione Campania perché abbiamo visto l'adeguatezza della rete ospedaliera nell'impatto del Covid perché noi facciamo delle norme che le regioni non sempre rispettano una di queste norme è il numero di posti letto in terapia intensiva quindi se ad esempio non so se esiste una regione in Italia che ha 10 milioni di abitanti se esistesse questa regione dovrebbe avere 1.100 posti letto poi non so se in questa regione arriva un'epidemia che nasce da un paese in provincia e a un certo punto si trovano 1.000 ricoverati e nel loro scheda ospedaliera hanno 700 posti letto è ovvio che succede il caos e da questa regione che ha un'ottima sanità però probabilmente l'organizzazione pubblico privato e il mancato rispetto della rete ha fatto collassare una delle eccellenze italiane non è che le altre regioni la Puglia è andata meglio alla Puglia non gli è arrivato perché se fosse arrivato in Puglia non ci sarebbero stati questi numeri che abbiamo avuto nelle regioni del nord il numero di morti sarebbe stato preoccupante perché questo numero di 900 più di 900.000 morti andavano nelle regioni meridionali adesso noi non è che la pandemia è finita la pandemia c'è ancora tant'è vero che penso adesso io faccio il ginecologo ma per qualche anno queste mascherine ce le dobbiamo tenere e dobbiamo vedere questa regione che però mi sembra che ci sia una regione con 10 milioni di abitanti che ha avuto il 6.9 per mille di tasso di infezione nelle donne incinta che accedevano in ospedale in questa regione tanto per farvi capire cosa è successo il 20 marzo mi chiamo una dottoressa e mi chiede e mi dice ho la polmonite basale bilaterale e dico ma dove sei sono a casa come sei a casa sono a casa e cosa hai bisogno cosa è successo cosa non è successo appena ha fatto l'attacco e mi hanno mandato a casa ti hanno mandato a casa insomma mi ha chiesto un elicottero io ho chiamato regione Lombardia per un elicottero e non me l'hanno dato per un trasferimento quindi capite come c'è stato un crash nel crash abbiamo sacrificato moltissime cose abbiamo scritto queste cose prestazioni indifferibili PMA comprese è stata esclusa di default mi dispiace non sapevamo assolutamente che pezze prendere non capivamo niente c'era l'OMS che diceva che i mascheri non servivano io non so l'OMS se si giustificherà un giorno comunque abbiamo provato a vedere come si sono distribuite noi abbiamo un target di popolazione giovane anche la PMA ha una popolazione giovane non è che abbiamo gli ultra 65 anni abbiamo provato a mettere mamma sotto 30 anni tra 30 e 34 e sopra 35 sono state tutte colpite nello stesso modo cioè questo è il totale 28, 37, 35 cioè sono distribuiti quelle che hanno fatto la polmonite cioè che sono state ricoverate in terapia intensiva sono un terzo un terzo un terzo ci aspettavamo sopra 35 un numero diverso ma allora la stratificazione per l'età anche che presentano alcune regioni non è veramente allineata alla stratificazione per le basse età 35 e 50 perché per ora stiamo sopravvivendo in queste fasce di età quindi il 25% un terzo della popolazione le donne 42 anni avevano questo rischio simile a tutte le altre e questo è stato un dato per la programmazione prossima futura molto interessante perché se io ho la Fiveta che mi produce in quel centro come catalogo 100 donne sopra i 41 quel punto nascita dovrà essere attrezzato di conseguenza è stato stratificato anche per italiane non italiane le italiane sono di più ma se guardate bene le straniere su 27 straniere 13 sono finiti in rianimazione perché le condizioni sociali hanno fatto sì che questi sintomi respiratori finissero in rianimazione poi noi abbiamo una popolazione 50 e 50 50 sono non libere 50 sono multipare ma le multipare sono state il 70% non sappiamo perché perché non sappiamo niente probabilmente perché hanno i figli perché sono cioè i figli invecchiano se avete visto quel monologo di Mastandrea ma evidentemente i figli ci fanno anche fuori perché ci fanno ammalare e questo multipare 69% andrà tenuto presente nella prossima onda che arriverà questo inverno fra due inverni tra inverni ma arriva perché poi non si sa con che picco ma in tutte le infezioni tutte le pandemie è arrivata una seconda onda poi c'è stato questo dato ma partoriscono tutti i pretermine causa il parto pretermine ma se non è il parto pretermine noi abbiamo un po' di late preterm al 23% la percentuale dei late preterm di quelle con la polmonite oltretutto ma il dato nazionale non è che si discosta tantissimo da questi dati del late preterm quindi probabilmente noi di questo corona non abbiamo ancora ben capito cosa combini in gravidanza una cosa che vi volevo far vedere è i sintomi questo serve a tutti in questa corte sono donne incinta il totale della popolazione che sintomi presentava questi un terzo non presentavano nessun sintomo nel totale nessun sintomo al 28% quindi se voi vi sentite bene stasera potreste essere in questo istogramma arancione la displea il 13% poi se vedete sotto tosse e febbre tosse 46% febbre 48% cioè su ogni sintomo cioè su 100 quante avevano tosse su 100 quanto non avevano nessun sintomo poi se io vado nelle donne che sono entrate con infezione e non avevano la polmonite poche avevano la displea sempre un po' di tosse un po' di febbre ma di quelle che hanno avuto la polmonite la displea è stato il sintomo principale che ha coinvolto il 31.9 questa fame d'aria a questo fatto che gli anestesisti ci chiamavano e ci dicevano guardate che in due ore muoiono come è possibile le donne gravide che abbiamo avuto abbiamo avuto un decesso nel nord Italia a causa del covid una morte materna e tutte le altre si sono salvate perché i punti nascita le hanno nel caso di polmonite ricovero in terapia intensiva le hanno indotto il parto l'induzione del parto ha portato a una degenza di quasi 5 giorni cioè la paziente è stata interrotta la gravidanza ha partorito è guarita in 5-6 giorni a differenza dei 21-22 giorni di media degli altri pazienti covid quindi è lo stato immunitario della gravidanza che ha mangiato l'organismo materno per quello il blocco della gravidanza è stato determinante abbiamo tutte le regioni stanno monitorando il covid metto questa qui di regione Veneto perché fa delle cose un po' diverse e quindi lui giornalmente ti dice quanti positivi ci sono quanti sono i guariti quanti sono i decessi quanti sono questa giornata l'altro ieri i casi positivi vedete 588 Verona 430 Vicenza 338 Padova c'è una curva da tenere presente che questi questi istogrammi blu sono i positivi cioè perché in Veneto fanno i tamponi a tutti il tampone è gratuito chiunque lo vuol fare può accedere in ospedale adesso abbiamo messo quel nuovo tampone rapido antigenico e viene fatto a tutta la popolazione quindi qui il picco è stato il 16 marzo però se guardate bene questa è un piede è un piede di una curva cioè un piede lungo di una curva cioè non sta alzandosi perché noi non abbiamo i dati di novembre perché a novembre abbiamo scoperto che una montagna di persone sono morte per polmonite atipica anche a dicembre anche a gennaio eppure tutti sapevamo che esistesse U.A. ma siccome anche io diciamo ma vuoi che questi cinesi abbiano chiuso tutto e si facciano fargli l'economia non sarà possibile poi c'è stata questa campagna politica il politico si è messo in mezzo al tecnico noi facciamo i tecnici è successo un disastro anche per la circolare ministeriale sull'utilizzo del tampone qui abbiamo chiesto di tamponare tutta la popolazione che accedesse in ospedale ci è stato chiesto dall'OMS di non inserirlo allora noi allo Stato Regioni l'abbiamo fatto inserire ma non nella circolare ministeriale ci abbiamo cercato di fare il meno peggio questa è la curva quindi noi dal 13 luglio la percentuale dei positivi sale sale anche la percentuale dei guariti la cosa buona è che i ricoverati vedete sono bassissimi molto bassi quindi è un dato positivo e poi il setting organizzativo perché c'è stato un crash in alcune regioni perché le regioni credono che il punto nascita la PMA non debbano rispettare i requisiti di accreditamento di sicurezza e autorizzativi cioè noi facciamo una marea di strutture sanitarie senza che succeda niente allora a un certo punto Regione Lombardia ci dice nei primi giorni li mettiamo in RSA ormai non c'era nessun controllo loro li hanno messi in RSA però io vivevo questo terrore tra le figlie a tornare a casa le mie figlie che non mi volevano e dicevo ma vuoi che in RSA non si infettino ho detto ma se siamo tutti fermi ma saremo noi a infettare gli altri cioè siamo gli unici che ci muoviamo l'unica fabbrica che si muove l'ospedale ha detto siamo noi la fonte di contagio non si può mettere nei vecchietti di fatto li hanno messi in RSA e sono morti praticamente tutti allora in Regione Veneto cosa ha provato a fare questo modello li abbiamo messi a domicilio con assistenza domiciliare cioè il 94% delle persone sono state messe a domicilio il 5% nell'alta intensità di cura e quindi quando il sindaco dice no io voglio l'ospedale a Bondeno perché a Bondeno voglio a tutti i costi avere il mio ospedale allora a Bondeno o gli metti la terapia intensiva o l'ospedale non lo fai perché non è che ti serve l'ospedale per fare un po' di chirurgia di cose poi non c'è la terapia intensiva e la gente ti muore quindi questo è stato un monito per la riforma della rete ospedaliera questa è la quantità enorme di tamponi che viene fatta in questa regione che ha trovato il picco dei positivi che sono stati il 12% per marzo però noi oggi siamo al 2% e se vedete comunque la positività ricordate sempre che noi non sappiamo niente di dicembre gennaio e febbraio perché lì c'era non è possibile che dal punto di vista epidemiologico il virus non fosse presente in Italia che il primo paziente fosse questo ragazzo di Codogno perché dovevano cercare un lombardo perché la politica è strana la Lombardia è quella che traina tutti allora appena che succede una cosa tutti contro la Lombardia il fatto è un problema italiano è un problema che ha finalmente fatto capire che la rete di assistenza delle PMA delle ostetrici è una rete italiana non è una rete provinciale è una rete regionale è una rete italiana se io non posso fare la PMA da una parte la farò dall'altra cioè i confini questa epidemia hanno insegnato ai politici forse che la sanità non ha nessun confine e la cosa importante è che servono i setting perché la terapia intensiva cioè se Regione Veneto aveva 700 posti e nel momento di picco avevamo 500 ricoverati avevamo 200 posti liberi se Regione Lombardia doveva avere 1150 posti e aveva 1500 malati non sapevano neanche come trasportarli quindi le cose sono logiche quindi se noi chiediamo dei setting organizzativi questi sono e questa è la curva dei ricoverati in terapia intensiva questa bassa che vedete che è quasi zero adesso è stabile e negli altri reparti che quella è la curva che ci serve anche di più poi vi faccio vedere una cosa di queste donne maschi e femmine sì è vero che le nostre donne sopravviveranno a noi per tanti anni perché noi maschi siamo una specie già destinata a involvere però nei tutti i casi sono distribuiti così 54% donne e 46 maschi sono colpiti se guardi i ricoverati 56 maschi e 44 donne ma se guardo il numero dei deceduti qua stiamo pari 49 a 51 quindi non è questo organismo femminile che è il determinante perché nel decesso e nell'esito che io devo vedere cos'è la differenza tra di sesso se gli esiti sono uguali c'è qualcosa di comune se io guardo la stratificazione per età vedete da 0 anni 85 11% 22 32 la fascia maggiore di età è tra i 45 e i 64 delle persone di tutti i casi cioè sono ragazzi giovani questi però se poi li metto nel ricovero nel setting ospedaliero tutto ad un tratto il 60% della popolazione positiva al covid ha più di 65 anni ma esistono 27% questi 45 e 64 sono io ma ci siete anche voi 25 e 44 6% cioè non bisogna tenere sottovalutare questo dato nei ricoverati 65 sono sopra i 65 gli altri sono tutti e cosa succede nei deceduti nei deceduti abbiamo che il 95% dei deceduti è sopra i 65 anni quindi sicuramente è critico perché l'esito coinvolge l'età allora in un paese che organizzerà una prossima epidemia adesso stiamo organizzando per i paesi dell'Africa del Nord Africa che ci stanno chiedendo un piano di riordino per il covid e il primo punto c'è scritto isolare gli ultra 65 anni cioè metteteli a casa perché altrimenti visto che sono loro quelli che rischiano altrimenti non ce facciamo poi secondo punto tutelare l'età pediatrica terzo punto tutelare le donne perché senza donne la società non va avanti i figli l'evoluzione della specie non avverrà poi ci sono le donne con patologia alle donne in vertice la popolazione delle donne va tutelata al massimo che è una popolazione fragile anche per l'influenza ma non per il corona perché la donna si infetta comunque del corona vi faccio vedere e vi faccio due domande che così chiudo è stata fatta questa cosa su queste linee di indirizzo su coronavirus gravidanza travaglio parto e puerperio con delle domande fatte per la popolazione perché il governatore nostro con il ministro hanno voluto delle domande molto facili sono girate subito non so se avevamo 100.000 visualizzazioni dopo 24 ore perché loro utilizzano questi sistemi social ma sono troppo vecchio per capirli e ci sono queste domande cosa devo fare lavati le mani il mio stato di gravidanza mi sottopone ad un rischio di contagio da coronavirus maggiore secondo voi la gravida è più a rischio adesso che siamo a settembre o meno a rischio vediamo se avete il coraggio Andrea allora le donne in gravidanza per prendere il virus lo prendono come il resto della popolazione cioè se qua siamo in 150 sono gravide circa il virus ci prende allo stesso modo però a differenza della suina della prima SARS però quando loro arrivano proprio perché l'organismo ha questo stato di immunodeficienza ad un tratto possono convertirsi in patologie più serie quindi per quello che comunque anche se la gravida prenderà con la stessa incidenza va tutelata poi c'è questa cosa dell'attacca avevamo l'attacca perché si era capito che non era una polmonite cioè l'attacca evidenziava quadri di microembolia diffusa allora le donne hanno detto no io l'attacca non la voglio fare però se vi chiedono l'attacca l'attacca è assolutamente possibile farla perché uno fa un rischio beneficio quindi alla donna va comunicato che l'attacca si può fare perché se tu devi morire devi avere un decesso a causa del tuo stato di gravidanza fatti l'attacca verrai coperta il bambino non subisce quasi nulla poi c'è stato stasso riparto cesareo perché ad un tratto l'OMS dice ma noi dobbiamo seguire la letteratura dei cinesi oi i cinesi hanno scritto che dovevano fare tutto il cesareo ma c'è come dovete fare tutto il cesareo il cesareo cioè tutte le associazioni hanno deciso che la donna con travaglio paucisintomatica asintomatica tampone positivo non quella gravemente sintomatica va valutata a seconda del benessere materno fetale il taglio cesareo va valutata come tutte le altre cioè non si può pensare di dire vabbè c'è il covid e ti faglio il cesareo poi fattolo te il cesareo con tutto bardato cioè sarà meglio un parto spontaneo tenete presente che il parto spontaneo dei sanitari ha compromesso il 40% dei sanitari coinvolti era del materno infantile perché a un certo punto hanno detto che il parto non genera droplet al parto non genera droplet tu stai 8 ore costo aereo sole il parto non genera droplet e hanno messo allo sbaraglio una serie di mamme e di ostetriche poi un'altra cosa che voglio sottolineare ma ho visto che Andrea l'ha già detto il partner il partner va portato dentro adesso basta adesso è settembre bardate il vostro partner e portatelo dentro nei vostri luoghi nelle PMA non potete abbandonare capisco che noi maschi però è una coppia quella non potete abbandonare il partner poi si dice arriva l'epidemia ho il tampone positivo devo scegliere un punto nascita specifico certo perché in Italia esistono punti nascita 93 senza terapia intensiva la norma dice tu vuoi un punto nascita devi avere la terapia intensiva quindi noi abbiamo trasmesso finalmente alla popolazione questa blacklist dei 93 ospedali italiani in cui non esiste la terapia intensiva e sono da nord a sud il mio partner è coronavirus positivo dopo assistere al parto ovviamente no perché va isolato se è coronavirus positivo e poi c'è l'allattamento la società ci hanno iniziato a dire no non possono allattare ma voi spiegatemi nasce il bambino però ripeto io ne ho fatto quasi una guerra familiare ma se nasce il bambino io gli dico no tu non puoi allattare come hanno fatto i cinesi li hanno isolati tutti poi dopo 36 ore torni a casa cioè com'è che fa sta mamma con sto bambino che tipo di contapana cannuccia cioè cosa faranno la donna può allattare prenderà le sue precauzioni tanto il bambino già ce l'ha cioè il bambino sta lì in mezzo quindi più o meno l'ha già preso quindi l'allattamento si può fare non si può togliere la mascherina e si può anche fare quello che si chiama skin to skin che ci hanno contestato tantissimo adesso skin to skin finalmente è stato sdoganato e che quindi si può fare quindi ci sono da queste nostre linee di indirizzo che abbiamo proposto come ministero il ministero con l'OMS siccome ci hanno scritto queste cose i tamponi è un po' passato sotto traccia il regione Veneto le ha acquisite le hanno acquisite poi l'istituto superiore di sanità e il ministero nel secondo tempo con questi schemi che ci sono nelle linee praticare l'igiene respiratoria pulire e disinfettare lavati accuratamente le mani queste cose qui non tieni la mascherina la società scientifica vedete queste sono le nostre le nostre linee di indirizzo che sono state riprese anche dalla società scientifica c'è questo studio se volete collegarvi che fa una serie di quesiti alle donne può partecipare sia la mamma che il professionista per capire l'impatto anche psicologico che ha avuto questo periodo del covid il vi chiedo ma io sono certo perché questo è la PMA un gruppo di nicchie un gruppo che ha tanta sensibilità cioè che qui purtroppo non dobbiamo dimenticare rispetto a degnità perché aver tolto il partens alla parte io ho visto cosa è successo siamo tornati agli anni 40 con un po' di aggressività no tuo marito deve stare fuori lui non c'entra niente allora questo stile dell'aggressività per la paura deve un po' ritornare indietro e dare la possibilità alla donna a travagliare in modo appropriato senza timori e la donna ha il diritto quindi se Regione Calabria oggi non mi ha ancora messo il partner in sala parto o Regione Sicilia in parte in sala parto stanno facendo un danno un danno enorme al diritto di salute volevo come al solito dedicare la mia relazione al mio collega Massimo che ci sono tanti padovani quindi se lo ricorderanno e chiudo con questo brevissimo video che abbiamo fatto grazie a tutti 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 ecco grazie 4 minuti ma loro se lo meritano perché sono stati loro la nostra prima linea bene grazie allora abbiamo sicuramente sforato parecchio nella sessione quindi chiedo ad Andrea quanto abbiamo per un po' di discussione 10 minuti ok perché sicuramente le domande o gli spunti di riflessione con queste 4 relazioni sono sicuramente tante la mia riflessione personale ovviamente è che usciamo penso da questa bellissima tavola rotonda con molte più domande che risposte come è giusto che sia in una fase in cui di questo virus e di questa epidemia conosciamo ancora poco sicuramente è un'epidemia che ci sta insegnando molto non solo dal punto di vista biologico medico ma anche di politica sanitaria di organizzazione e lo dice uno prima ci mandavamo gli sguardi io e Lucia De Santis perché lavorando in Lombardia ovviamente sapevamo bene la situazione che tu poi hai descritto a distanza di tempo molto chiara e quindi ci sta insegnando molto visto che non abbiamo tanto tempo per la discussione io mi fermo qui anche se ovviamente potremmo commentare molto e chiedo alla sala se abbiamo domande per i quattro relatori quindi sia le parti più politiche economiche sociali che le parti più squisitamente di biologia prego c'è qualche domanda? eccola là scusa ma ho il faro puntato per cui non vedevo prego allora avevo un commento su quello che ha detto Andrea lavoriamo molto peggio molto almeno nella mia realtà perché essendo Lombardo abbiamo dovuto costruire un percorso come se stessimo lavorando oggi a marzo o aprile quindi nel picco della situazione ma quello che invece mi conforta è che su quasi mille tamponi eseguiti ne abbiamo avuto uno debolmente positivo e questo significa che probabilmente siamo sommersi da burocrazia siamo sommersi da ore passate a fare triage telefonici inseguire donne però per fortuna e dico non sono negazionista perché l'ho fatto il covid ad oggi fino ad oggi l'ho guardato l'altra settimana i dati abbiamo avuto un solo debolmente positivo quindi probabilmente la paziente infertile è particolarmente attenta pur essendo in un'età in cui può andare ancora al billionaire ma sapendo che sta cercando un bimbo cerca un pochino di proteggersi il problema del marito in sala parto lo condivido nel centro di PMA è un po' un problema perché le nostre sale d'attesa non hanno dimensioni tali per poter accettare anche i mariti o vorrebbe dire limitare ulteriormente l'accesso delle coppie ai trattamenti quindi tra bilanciare il poter fare x cicli a settimana o doverne fare la metà perché entra in sala d'attesa anche il marito noi insieme al laboratorio abbiamo condivido che sia meglio che il marito aspetti al bar e purtroppo lasci il campione di seminale se ne vada lo so che è una cosa brutta e fredda ma non c'è possibilità Andrea io volevo dire questo la cosa che mi è sembrata strana Gianfranco è che è vero che i ginecologi capiscono poco e che quelli che fanno applicazione assistita capiscono ancora meno partiamo da questo assunto detto questo però è stupefacente come linee di comportamento suggerimenti fatte dai pneumologi sono state seguite a sprombra tutto nonostante sono successi i casini a più non posso suggerimenti di comportamenti suggerite dalla società italiana e da gestitrici e da esperti chiamiamoli così poi ci sono in mezzo diciamo mezzo esperti di fecondazione assistita siano state completamente disattese e completamente non cagate se usiamo un tema da strada il concetto è io mi chiedo perché o facciamo tamponi a chiunque entrassi in un ospedale tutti i giorni oppure aveva un senso ovviamente bardarsi in quel modo e nelle rianimazioni probabilmente rimandare gli interventi particolari non sappiamo ancora quanti malati di cancro moriranno in più perché non sono stati curati però in realtà un set di prelievo degli ovociti è una cosa abbastanza banale dove di spray ce n'è quasi raro non c'è quasi per niente e quindi il fatto di portare queste donne andare a farsi un tampone prima in ospedale quindi accedere in un posto dove possono prendersi quindi la cosa che faccio per capire è questa il fatto di dire non capiscono un cazzo cosa è stato a Roma dieci anni fa la cosa che mi serve sempre dire io dico sempre a questi ministri io sono solo un ginecologo in modo che li spiazzo un po' nella discussione però c'è il paziente che viene ricoverato e che quindi ha un'adegenza deve essere tamponato cioè deve avere il tampone nel paziente ambulatoriale come è il paziente a PMA in questa fase qui si può tranquillamente dire che il tampone non serve cioè lui fa una scheda si farà la sua scheda perché oppure può fare anche il tampone prima se ce l'avete perché non tutte le regioni sono organizzate adesso col tampone antigenico non so se l'avete visto questo che non è più non è la saponetta con gli anticorpi tu metti lì l'antigenza se c'è non c'è l'antigenza la risposta è mezz'ora e costa pochissimo non costa 44 euro come il tampone come si dice nasale oro faringeo quindi è stata disattesa la ginecologia perché la ginecologia in modo frontale ci siamo scontrati io poi rappresento il ministero però mi sono stesso scontrato con questo comitato che diceva che non servivano i tamponi a tutte ma io dovevo stratificare la popolazione ho detto no ma ha detto io non so cosa sia sta cosa qui si fa tutte quelle che entrano le nostre donne fanno tutti i tamponi cioè è inutile stare lì sull'esina tampone sì tampone no ormai la popolazione è tutta potenzialmente positiva poi il resto ci sono i virologi peraltro che dice quello che era famoso prima di dare una versione non arriverà mai poi è arrivata noi siamo un po' isolati però per quanto riguarda la questione a PMA anche state facendo le linee di indirizzo che già mi hanno chiesto poi di poter revisionare dal punto di vista programmatorio c'è un po' più di attenzione c'è ma noi siamo una nicchia finché non capiscono che sono le donne il loro target loro pensano ai 65 anni perché è la politica che fa che dà le linee di indirizzo quindi finché non fate mettere in cinta queste oltre 65 ci sono altre domande altri commenti prego sì io avevo due domande una per Lucia De Santis e una per il dottor Iorizzo Lucia tu hai mostrato una nota dell'Eschre che riportava come l'Occita non viene infettato dal virus per la presenza della zona pellucida ma è un dato sperimentale quello è un dato empirico che viene dal razionale che se il virus ha contaminato le cellule somatiche è nel cumuloforo tu rimuovi il cumuloforo e hai comunque una barriera che è rappresentata dalla zona pellucida ma è un dato empirico cioè fa parte di quel discorso che ho presentato alla fine del dilution probably is the solution cioè noi puliamo dal comparto somatico abbiamo solo il gamete che è circondato dalla zona pellucida lo laviamo lo laviamo lo laviamo è difficile che si porti dietro è un po' razionale per cui in alcune patologie virali pazienti positive per epatite C e epatite B si suggeriva comunque c'è stato un trend per un lungo periodo facciamo la ICSI così rimuoviamo il comparto somatico e le cellule del cumulo ok grazie e per il dottor Iorizzo allora io lavoro all'università di Pavia e circa il 40% dei miei studenti sono o pugliesi calabresi e siciliani più o meno e con l'inizio del lockdown sono sciamati tutti al sud sono spariti ecco com'è possibile cioè qual'idea vi siete fatti voi com'è possibile che al sud non sia arrivato il virus quando lei prima diceva abbiamo avuto pochissimi casi evidentemente non è arrivato ma è impossibile cioè ci deve essere qualcosa di intrinseco alle nostre regioni la Lombardia dove vivo io ma si è parlato di diverse cose si è anche detto che le polveri sottili cioè ci sono stati diversi discorsi perché abbia seguito la pianura padana perché ha seguito la pianura padana il virus certo quindi siccome il virus è andato ovunque abbiamo avuto i cofattori che non sono l'obesità i cofattori ambientali molto più pesanti in questa autostrada che collega Torino con Venezia cioè non è possibile che il vento abbia fatto questo trasferimento poi li abbia portati in Francia e in Spagna e in Spagna si è dappertutto ci sono dei cofattori però non so ci sono tante ipotesi ma io credo che il virus arriverà se dovesse arrivare con un'onda di picco arriva al sud perché le stanno facendo di tutto per far tornare un'epidemia le mie figlie i ragazzi il mancato utilizzo delle mascherine nei negozi si entra liberamente non hanno capito che noi adesso per qualche anno si deve stare così un po' attenti e basta non sapendo nulla però come è arrivato nelle altre nazioni perché mi aveva impressionato durante il covid per divertimento ero andato sul sito dell'ARPA Lombardia e guardando la corrispondenza tra i casi che venivano annunciati in televisione e i dati ARPA sul PM2 2,5 era impressionante ci sembrava che seguisse proprio quell'andamento sì beh poi c'è tutto c'è tutto il 5G è vero che siamo la locomotiva dell'Italia ma siamo anche una cloaca di polveri sottili questo per inserire un aspetto di tipo politico che in qualche modo credo il fattore mentale io faccio il tecnico faccio tante cose di programmazione faccio ancora il ginecologo ci sono alcune cose che tu non puoi togliere la regione Lombardia io non posso togliere la parte industriale perché si è riaperto si è riaperto per la salute dei cittadini o per rifar partire l'economia perché le mie ragazze sono riuscite ad andare a Rimini cioè come è possibile che tutti i locali fossero aperte i miei figli al 15 di agosto tutte in discoteca perché è ripartita l'economia il 16 di agosto però si è deciso che forse non andava bene e questo ha provocato la curva perché la curva è iniziata il 17 luglio quando i nostri figli sono andati in giro purtroppo è una logica così non ci posso fare grazie va bene penso che possiamo chiudere vuoi chiudere tu? no? no chiudo io va bene buon pranzo? buon pranzo grazie a tutti grazie a tutti